C'è una tax force che indaga sugli attentati e gli ultimi episodi di cronaca, siete ottimisti, insomma polizia e carabinieri insieme no dottor D'Angelo? Sì, polizia e carabinieri insieme perché così è il coordinamento, è anche giusto, ma noi nel nostro DNA siamo sempre ottimisti, quindi anche perché abbiamo sempre un motto, chi la dura la vince e quindi noi siamo più duri e vinceremo noi sicuramente. Comunque c'è una pista, state lavorando, ecco perché si dice ottimismo, perché ci sono dei filoni importanti su quello che è accaduto. Ma penso di sì perché un buon investigatore c'è sempre una pista.